Andate per le strade in tutto il mondo, chiamate i miei amici per far testa. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo, per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? Gesù rispose loro, andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete. I ciechi riacquistano la vista, gli zotti camminano, i lebrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo, e beato colui che non trova in me motivo di scandalo. Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle. Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso stanno nei palazzi del re. Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi più che un profeta. Egli è colui del quale sta scritto. Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero. Davanti a te egli preparerà la tua via. In verità io vi dico, fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista, ma il più piccolo nel Regno dei Cieli è più grande di lui. Parola del Signore. Andate per le strade in tutto il mondo, chiamate i miei amici per far festa. C'è un posto per ciascuno alla mia messa. E' stato donato con un amore gratuito, guarnette donate con gioia e amore. Con poi non prendete l'oro di attento, perché romperai o a gritto il suo giro. Andate per le strade in tutto il mondo, chiamate i miei amici per far festa. C'è un posto per ciascuno alla mia messa.